Il nostro progresso è meraviglioso, ma i limiti li stiamo constatando ora più che mai nell'inquinamento ecologico, nelle armi atomiche, batteriologiche e chimiche, in questo invisibile virus che sta mettendo in ginocchio l'umanità intera nonostante tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Maria ci invita a ritornare a Dio, a ritornare al Signore riconoscendo che abbiamo bisogno di Lui perché senza di Lui non possiamo far nulla di bene. È il Signore Gesù che ci colma della Sua grazia, ci libera, ci trasforma, ci guarisce, ci conforta. E la Sua presenza è luce che ci permette anche di affrontare i momenti più bui della nostra vita. E allora, sebbene le circostanze del momento presente ci obbligano a ridimensionare il programma del Giubileo, la grazia dell'Anno Santo rimane viva e più che mai necessaria in quest'ora della storia. Invochiamola questa grazia del Giubileo. Invochiamola in questa Eucaristia, in questi giorni, in questo anno. Invochiamola per ritornare a Dio, per aggrapparci a Gesù, l'unico e necessario Salvatore della vita, per affidarci a Maria e per imparare da Lei a vivere di fede nelle concrete circostanze della vita.